esercizio 3 e 4 pagina 5 dello stick control eseguito anche al contrario quindi 4 e 3 a 100 bpm ripeterò ogni esercizio quattro volte ok 4 4 5 6 6 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 17 18 18 18 19 20 20 19 19 19 20 22 22 19 19 20 20 21 22 19 20 20 20 20 21 22 20 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23